ragazzi e ragazzi benvenuti a questo nuovo video, io sono XM e oggi siamo in questo video, vi vedo sempre 48, non lo so, oggi siamo su Paco Penner, cosa consiste Paco Penner? mezzo che voi lo sappiate, trovare questi giocatori che però non posso utilizzare, però lo sfizio è quello di trovarli, allora oggi è un giorno un po' speciale perché c'è un po' di sobburgo in casa mia, che mio fratello deve fare 18 anni e tra un'ora basta cliccare la pubblicità e tra un'ora dovremmo chiudere, ho tempo per editare questo video per riuscirlo a pubblicare domani, allora sono usciti i todi, avevo richiesto un aggiornamento dall'autore di questa applicazione e non è uscito nessun aggiornamento, quindi purtroppo come vedete i giocatori sono sempre gli stessi, vedete quando tu hai 1651 card puoi sempre trovare qualcuno, quando ce ne hai 1800 non li trovi, noi siamo qui per trovare una leggenda, magari, tra l'altro Richard hanno messo la difensura e dovrebbe essere attaccato, si è attaccato, dovrebbe essere destino destro, non si trova niente, però non qua ero, sto da dieci venute a spacchettà, da dieci venute a spacchettà e qui non si trovava niente, io vorrei optare per un versi, però difficile, beh far passare un po' di tempo metterò le cuffe, io, Edra e leggenda, behove, 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 leggenda behove, leggenda behove, leggenda behove, fa io che volevo mettere le cuffie, ma leggenda behove, ci vedevo scendere la leggenda 90, però ci vedevo behove, ci vedevo behove, ma non c'è questa perchè non ho mai sentito di nominare, scusatemi purtroppo, le leggende ho visto giocata non è, ed, 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 quella più recente, dai, ma po' Maradona, tutti abbiamo visto almeno un suo video, e beh, però comunque, tra l'altro ragazzi sono stato aggiunto in una top ten che ho scoperto subito dopo che ho visto, cioè, mi sono girato e ho visto Portogallo e ho detto, oddio stai canto, e comunque, lo ringrazio, chiami Alex Favro, fateci un giro, fa pack opening su pack opener e ha caricato sta top, fateci un giro, ragazzi, per la crew, per la crew, sì, stiamo andando, sto cercando di comunicare con Cremat, perchè purtroppo non ha Facebook, e sto cercando di comunicare con Cremat, e poi dopo, c'è molta gente che su YouTube Italia Spam voleva partecipare, e io ho detto, va bene, parteci, non ti preoccupare, stai buono, stai buono, a parte puoi partecipare, e tutto il mazzo del cazzo, ok, metto la cuffia perché non mi tiene, e andiamo avanti e andiamo avanti e andiamo avanti e andiamo avanti e andiamo con Robert Lewandowski e trovo sempre quel Wijnaldum l'avevo trovato pure appena metto la operazione e andiamo così e andiamo così e andiamo così e andiamo così e andiamo a Bomeang e andiamo così Robert Lewandowski 15 non lo guardate solo voi non ve lo voglio guardare l'ho guardato 16 16 non essere nessuno che è sta cosa che è sta nazionalità ditemelo nei commenti dovrebbe essere 17 diciamo cosa no il fatto che ti trova no perché non c'è in azione da 18 ultimi 4 perché 18 19 no ultimi 3 19 non ho trovato niente 20 ultimo pack lo guardate il mio sfondo questo sono tutti i progetti allora avrò un 2 3 non c'è oggi non c'è oggi è un culo bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like commentate ottenzione a reclamare iscrivetevi noi ci vediamo ad un prossimo video con XRMV e con MyCon e l'ultimo pacchetto possiamo dire addio e e ciao ciao a tutti